Questa mattina in Sordina il prefetto di Salerno Francesco Russo ha fatto visita al comune di Battipaglia per discutere con la sindaca Cecilia Francese di vari argomenti, fra questi la videosorveglianza e la sicurezza. Poi si è recato in vari stabilimenti della zona industriale battipagliese. Battipaglia è chiaramente una delle realtà più importanti della nostra provincia. Io sto cercando di visitare quando più comuni è possibile. Sicuramente Battipaglia non poteva non essere uno dei primi. Di Battipaglia ci siamo già occupati più volte. È stato al centro di un comitato per l'ordine e sicurezza pubblica, ma con tutti i comuni dell'area. Abbiamo già affrontato alcune problematiche. Stiamo affrontando in questo momento, ponendoci insieme tutte le istituzioni come punto di riferimento per i lavoratori della Treofan per dare questo significato forte di vicinanza ai lavoratori. Ma venire a Battipaglia significa rendere onore all'attività delle forze di polizia che collaborano splendidamente anche con l'amministrazione comunale e visitare anche alcune delle eccellenze che ci sono su questi territori. Perché noi dimenticiamo che questo territorio ha molte eccellenze. È un punto cruciale della economia della nostra provincia. Grazie.